E' sparata, fatto un po', mi è venuta su e non è venuta passata nessuno. E io gli va a fare fare con una macchina da reddito? Si. Si, si, guarda, non si è passato nessuno la davanti. Adesso sarebbe da andare di là. Lo vedo bene. Abri, bisognerebbe andare a destra adesso, come la vedi? Eh, lo vedi, hanno fatto la sparata, sono arrivati fino lì e basta, vedi? Non ho capito un cazzo, vuoi andare veramente a destra? Eh, provaci, se vuoi provaci, lì c'è la strada, se ci riusciamo ad andare. Lì ce n'è di più, è perché il vento tira così e si accumula tutta, qua non c'è niente confronto. Si, stiamo registrando. Vi stiamo registrando, prova a capottarti. Dai, fai qualcosa però, ti stiamo registrando che sei fermo. Sì, buona spiata del tutto, eh. Sì, buona notte. Dove è venire la strada? Grazie a tutti. Grazie. 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 Non viene tanta. Tanta e tanta. Guarda che roba. Andiamo? Basta, rinunci. No, no, io posso andare anche oltre, se volete. Eh, se la spiani, noi veniamo dietro. Eh, ma cosa c'è dopo? Ah, è lunga. Questa è tutta la strada ghiegliata che abbiamo fatto quella volta. Insomma, qui lo vedi, tira aria, ce la porta alla mucca. Ah, se no, basta, andiamo giù. Viero, cambia giù per l'asfalto, andiamo, proviamo il fiume, poi basta. Forse il fiume è l'unica soluzione cattiva. Occhio che qua c'è, c'è un po' di buon arco. attivato. alle schifte eろlle kitten presidente, avremmo un parking Trovando un pezzi lainese solita Foto! Momento foto! Grazie a tutti!